Ciao, sono Gabriele Bove, candidato alle prossime amministrative accanto a Giorgio Del Ghingaro. Facendo l'assessore all'urbanistico ho capito ancora meglio l'importanza della tutela del nostro territorio. Con l'approvazione della variante Regolamento Urbanistico abbiamo verificato la sostenibilità del nostro territorio, escludendo eccessivi impatti ambientali, verificando la pericolosità idraulica e geomorfologica, tutelando l'ambiente e il territorio. Vorrei sottolineare l'inserimento nel Regolamento Urbanistico di previsioni di nuovi alloggi per l'edilizia residenziale a carattere sociale. La tutela del territorio passa attraverso regole chiare e certe, che incentivano tra l'altro il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti. Questa è la strada che abbiamo intrapreso e che vogliamo proseguire, anche insieme a voi. Ci vediamo in giro per le frazioni del nostro comune e sul sito internet GabrieleBove.it. A presto. Grazie. 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 Grazie a tutti.